Falk si arrabbierà se non torniamo subito Sì, ma non credo che la loggia voglia dei viaggiatori del tempo affamati Ecco, numero 121 del menù Pollo Tandori con extra batura e mango lassi Qui trovi il cibo indiano migliore È un posto un po' insolito questo Anche noi siamo un po' insoliti Forte per lei, Messie de Villiers, benvenuto nel presente Il fatto che conosca le buone maniere del passato non esclude che io qui abbia una vita normale Oh sì? E che cosa fai allora? Io studio, medicina Ma questo semestre me lo potrò scordare E tu che cosa fai quando non tenti di avvelenare i ragazzi con il carry? Di sicuro non suono il violino e non ballo la gavotte Suonare il violino non è poi così male E comunque le donne lo adorano In qualsiasi secolo Sei così disgustosamente arrogante Grazie E tu sei la ragazza più carina della Terra Il diamante è la più resistente delle giamme